Il direttore della stampa Massimo Giannini sarebbe risultato positivo al coronavirus al covid-19. Come il sito d'Agospì avrebbe riportato, lui sarebbe stato trovato positivo al covid-19, motivo per il quale si starebbe procedendo con l'evocazione della redazione come misura cautelare per tutti i giornalisti che lavorano al suo interno. Il quotidiano, come la prassi prevede, dovrà procedere alla sanificazione degli ambienti e tutti i lavoratori dovranno essere messi in isolamento fiduciario, sottoporsi a eventuali tamponi per accertare il relativo stato di salute. Nessuno potrà tornare in sede prima che sia accertata la negatività dei soggetti coinvolti e la sicurezza nei relativi ambienti. Questo dunque sarebbe quanto, ci sarebbe stato anche un tweet da parte dello sdietto interessato il quale avrebbe scritto dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone, sono positivo al covid-19, ringrazio tutti per l'affetto, al giornale ce ne stiamo organizzando, domani ci saremo come sempre e più di sempre, ma attenti, il virus c'è, usiamo tutte le precauzioni, solo così andrà tutto bene. Questo dunque sarebbe quanto, il video termina qua, questo video non vuole le delle brasi di Gianni Massimo né di altre persone, ma solo informare eventuali persone. Grazie. Al prossimo italiano, donato italiano.